Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nella puntata di ieri sera di stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, è accaduto un incidente durante l'esibizione di Marta Filippi nella stanza inclinata. Durante uno sketch con Biagio Izzo e Rocio Munoz Morales, l'attrice romana è scivolata e ha preso una dolorosa botta al ginocchio. Tuttavia, ha affrontato l'incidente con spirito positivo, commentando. Prima o poi doveva succedere. Marta Filippi, mentre si trovava nella stanza inclinata con i suoi compagni di sketch e ascoltava le indicazioni di De Martino, ha perso l'equilibrio e è finita contro il tavolino di legno al centro della stanza. Ha mostrato il suo ginocchio ferito su Instagram con del ghiaccio, scherzando sulle circostanze dell'incidente e chiedendo ai suoi follower di indovinare quale gioco avesse dato il suo migliore risultato. Successivamente, durante un'intervista nel programma, ha commentato l'incidente, ammettendo che le cadute e i piccoli infortuni fanno parte dello spettacolo e che prima o poi era inevitabile. Ha scherzato sul tavolino di legno resistente, dicendo di aver pensato di cadere sopra di esso con tutto il suo peso.